Hey, nothing you can say, nothing's gonna train what you've done to me, now it's time to shine, I'm gonna take one man No, rompiano perfetto, siete il corpo militare ed elite privato migliore del mondo, perché non riuscite a uccidere un imbecille con una corda e una tuta da scoiattolo Semplice, non sparano con un jet quando dobbiamo sparare a un aereo Muggendo da medici come un cane bastonato No, no, la fiamma blu del Bavarium brucerà la terra, non perderò medici nelle sue preziose miniere a causa della vostra stupidità Guardate cosa mi tocca fare Se fosse lui li avrei già sparato, comunque Ripulite tutto Ma certo, i ribelli attaccano a piacimento e poi se la filano attraverso il muro Attaccateli, assicuratevi che i ribelli sappiano che state arrivando Tu, manda le tue truppe migliori A evadere quell'idiota di Zeno Voglio sapere cosa ha scoperto Voglio essere sicuro che Rodriguez non venga a sapere niente da quello stupido codardo E se vedete quel falso profeta che è Rosa Manuela Piazzatele un proiettile in testa Dove metterti per forza dietro il fuoco per dire queste cose Non mi deludete di nuovo Rico, io e i ribelli stiamo spostando da nord delle propiste rubate Ci vediamo sul muro Sappiamo che di Ravello potrebbe esserci alle Calcagna Ci servirà il tuo aiuto amico Bersaglio in libertà Ristabilire contatto visivo immediatamente Forza Ristabilire contatto visivo immediatamente Ho solo 5 chilometri e mezzo Tranquilli Fica, quanto voglio un elicottero adesso Rispaccio, il bersaglio è ancora in libertà Trovatelo Dei come sei riuscito a raggiungermi Stiamo inviando supporto di terra alla vostra unicola Io taglio Si va fuori gita Uh, aiuto Dovrebbe essere adatto per andare sui prati, no? Oh là Chi ci capisce più qualcosa Contatto visivo cessato A tutte le unità sparpagliatevi e trovatelo Vi è in mezzo alla giungla Porca troia Inseguimento terminato Bersaglio fuori portata Wow Wow Un grande fuoristrada C'è una prigione qua Direi che mi fermo Magari trovo un elicottero No, vabbè C'è un muro gigantesco Che parte da dove eravamo di là Sono passato per tre chilometri fino a qui E ovviamente l'inizio della missione deve essere dall'ultima parte Cioè, alla fine deve essere Ah beh Proprio elegante Puoi buttarlo giù? È da quando l'hanno costruito Che dico Un giorno Mario Frigo salirà in piedi su questo muro E piscerà sui confini del mondo Hai sempre sognato in grande, Mario L'ho già fatto tre volte da quando sono qui Dovresti provarci E se di Ravello c'è alle costole Le sue forze arriveranno presto Cosa ci fa lei qui? Rico, prova tu a dire a Rosa Manuela quello che non deve fare Rico È troppo pericoloso restare qui Sono un simbolo, ma anche un leader Tu più di tutti dovresti capirlo È per questo che abbatti quelle statue E liberi il paese dal veleno della propaganda E se di Ravello abbattesse lei? Non abbiamo una sua statua Beh, in realtà Se posso intramettermi Di, avrei un amico scultore Mario Riportala indietro Io proteggerò il muro In effetti non è proprio un amico amico Ci siamo conosciuti su internet Io proteggerò il muro Va bene Tutto Che è più lungo di 3 km Rico, siamo tornati al covo Come sta andando? Non ho tempo di parlare Ehi, fai in modo che qui i rifornimenti restino intatti, Rico I ribelli hanno bisogno di quell'equifaggiamento Quanto odio sto coso È un buggato come non so cosa Spara però Ma dove sta andando? Ma lo becchi? Vabbè Senti, non serve un cazzo messo lì 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 E' lo soquito! Sì, ok. Gente, ricaricate. Torneranno presto. Ah, mi hanno già fatto fuori metà dal carico a sinistra. Siamo tornando! Ehi, aspetta un secondo. Elicotteri nemici in avvicinamento. Rico, usa i cannoni antiaerei. Ah! Ti potevo spostare allora? Che c'è? Staccatevi! Sentimi, quello è uno spreco. Non sprecherò mica un elicottero così bello. All'attacco! Oddio, ne ho quattro addosso. Uh! Uh! Due! Scendi! Tre! Eeeh! No, l'ha mancato! Cazzo, ne arrivano altri. Devo abbattere almeno questo prima che arrivino gli altri. Via! Prepararsi! Uh! No! Mi hanno distrutto quello a destra! Come hanno fatto? Non c'è nessuno! Poi più in alto. Ah! Li abbiamo battuti, ma torneranno. Quindi? Ah! Caccia nemici in arrivo alla vostra posizione. Dei jet. Ah no, caccia ha detto, sì, ho capito. E questo è come li vorrei abbattere. Uh! Eh, finché son caccia non posso colpire FC facilmente i carichi. Ma neanch'io posso colpire facilmente loro. Vieni qui, caccia. Non riesco. Adoscappi! Ah, bello! C'è un altro là in fondo. Au, è muore, c'è. Ho beccato un caccia in volo. Non riesco a beccare un furgoncino. Io no! Mangatissimo. Mangatissimo. Eh, vabbè, vado a beccare quello là. Ah, caccia! Do state? Sali di quota. Porca troia! Questo non era previsto. Stanno massacrando. Non lo apri. Ma sta cosa assurdamente inutile. Oh, c'è un po'. Ricco, hanno preso Zeno facendo saltare la cella. Vengono verso di te in elicottero, Ricco. In elicottero, bene. Cima al muro. Tuffe. Sali in cima al muro e li... Bene, Ricco. Siamo solo io e te. Ora. Cosa pensi di fare con un elicottero, scusa? Per di più malandato. Oh no! Stai scherzando! Mi stai prendendo per il culo. Li difenderanno il muro. Sì. Scusa, Ricco. Per aver lasciato fuggire Zeno. Non ci pensare, Dima. Ci penso io, a Zeno. Sì. Ti prego, lasciami andare! Non doveva andare così. Il Bavarium aveva un potenziale rivoluzionario nella chimica. Illuminazione notturna, braccialetti magnetici. I geodi di Bavarium li potevamo vendere ai turisti. E cosa succede se mettete la liquirizia sanata nel Bavarium sciolto? Avevi una possibilità, vecchio. Te la sei bruciata. Oh, oh, oh. Non vedo un cazzo. Vabbè, mi sono rotto i coglioni. Si fa così. Via! Molto semplicemente. Non è esploso? Davvero? Io ho perso anche l'unico motorino che avevo. No! Volevo solo fare soldi facili, girare video educativi per le lezioni di chimica a scuola. Ma Tiravello, lui voleva le armi, voleva conquistare il mondo! Vabbè, vabbè, vabbè. Uno. Oh, e attacca. Uno. Due. Tre. Ecco, muoreci. Molta gente qui non ce l'ha fatta. Dobbiamo porre fine a questa guerra, Rico. Sì, sarebbe ora, amico mio. Ciao. Buongiorno. Grazie a tutti